Tele Molise vuole fare complimenti a Federico Di Lallo che ieri ha conseguito l'area quinquennale in giurisprudenza con il massimo dei voti 110 e lode. A Federico che ieri ha discusso la tesi in diritto ecclesiastico comparato dal titolo divieto di discriminazione e libertà religiosa nel sistema dell'Unione Europea, relatore il professore Marco Parisi. Vanno i complimenti e le felicitazioni da parte di tutta Tele Molise. Federico ha terminato in anticipo il suo percorso universitario sapendo coniugare lo studio con la passione per il calcio. Tutta la redazione sportiva di Tele Molise fa un grande in bocca al lupo a Federico per il suo futuro professionale. Estendiamo naturalmente gli auguri anche al nostro direttore Antonio Di Lallo, alla moglie Angela e al fratello nonché nostro collega Luigi per questo traguardo raggiunto. Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Tele Molise. Vi ricordiamo che questo pomeriggio a partire dalle 18 verrà presentato il calendario 2017 della redazione sportiva di Tele Molise appuntamento al ristorante Coriolis per la conferenza stampa che sarà irradiata comunque anche sui nostri canali 12 di Tele Molise. Naturalmente 112 il canale dedicato allo sport. La distribuzione del calendario è gratuita. Nei prossimi giorni sarà possibile ritirare le copie per chi naturalmente le vorrà presso le tre sedi della nostra emittente a Campobasso, Isernia e Termoli. Per il calcio tempo di sosta per il campionato di Serie D. Si torna in campo l'8 gennaio. Tempo di recuperare le forze, amalgamare il gruppo per Campobasso e Agnone. Sconfitta di Pesaro preventivabile nel tabellino di marcia dei Lupi verso la salvezza. Certo il parziale è stato abbastanza roboante, un 4-0 che non ha lasciato alcuna storia. Il cammino del Campobasso dal punto di vista tecnico sembra comunque percorribile, ovvero l'obiettivo salvezza è assolutamente alla portata dell'attuale Rosa a disposizione di Novelli. Importante porre l'accento sulla vittoria dell'8 dicembre a Re Canati dove la rete di Gulin, ormai un ex rosso-blu, ha permesso di ottenere tre punti vitali ai fini della classifica. Un successo utile a mantenere le distanze dalle squadre in zona play-out e proprio dalla stessa re canatese. Continua intanto il silenzio stampa da parte della società che si è ulteriormente chiusa in se stessa. Le domande del popolo rosso-blu riguardano ovviamente il futuro dell'attuale dirigenza, un grosso punto interrogativo al momento. È sì vero che le battaglie a vertenze della passata stagione ha tolto linfa e forze economiche ad Aliberti e soci, ma è altresì vero che i piani e i programmi non sono del tutto chiari. Certo la squadra d'inizio anno è stata ulteriormente ritoccata con un monte in gaggi ancora più basso. Sicuramente un bene, meglio in questo modo che non come nelle passate stagioni dove l'ex dirigenza rosso-blu invece di risparmiare qualcosa a dicembre ha pensato male, anzi malissimo, di mantenere la rosa anche con qualche rinforzo per ottenere un posto play-out praticamente inutile. Esempio lampante il Matelica che da anni riduce le spese in modo drastico nel mercato invernale. Gli stessi marchigiani da primi in classifica dopo il successo contro il Campobasso non hanno più vinto scivolando così al quinto posto attuale. Grandissima l'incertezza in vetta dove tutte possono giocarsi chance promozione dalla Fermana al San Nicolò sino alla Vastese e alla stessa Vispesaro. Sentiamo nell'intervista di Gianni Bruno proprio il presidente dei Biancorossi Pandolfi. Siamo con il presidente del Pesaro Pandolfi a commentare un 4-0 ai danni del Campobasso. Come partita non è stata mai in discussione seriamente insomma considerato quello che non ha creato l'avversario. Sì in effetti pensavamo che eravamo un po' più guerriti però insomma abbiamo fatto fin quanto dovevano sbloccare la partita si è riuscito a sbloccarla nel primo tempo poi dopo penso che sia stato tutto semplice. È stata una partita agevole da parte vostra adesso con anche questo entusiasmo, più di 2.000 presenze allo stadio insomma si può giocare qualcosa di importante nel corso del girone di ritorno? Ma vediamo un po' la squadra è attrezzata per fare bene, noi non è che ci nascondiamo, noi potevamo entrare nei playoff, a sto momento ci siamo poi vediamo insomma. Ecco vi sento compreso l'allenatore un po' prudenti nelle dichiarazioni quindi non è che eravate partiti per vincere il campionato, vi trovate in questo ballo e cercate di ballare? No, noi abbiamo fatto una squadra per puntare tra i primi quattro posti poi vediamo insomma primi è sempre difficile perché poi vince una, ci sono squadre che sono secondo me più attrezzate però ci proviamo, non è che ci nascondiamo. Quindi neanche voi vi aspettavate di essere così in alto a questo punto del campionato? Sì, forse ci manca qualche punto con qualche squadra che è venuta a rubare qui a Pesaro però va bene, è uguale. Va bene, esistono i ladri nel calcio, ci si ruba anche. Ci sta nel calcio, ci sta tutto. Ladri sportivi ovviamente. Sempre sportivi sicuramente. Coppa Italia regionale, domani si torna in campo per le semifinali di ritorno della competizione tricolore, a Capriati macchia gamba tesa, si riprende dal 2 a 1 per i padroni di casa, all'Ancellotta Isernia vasto Girardi, ospiti forti del 3 a 0 nel match d'andata. Calcio a 5 di Serie B, la Chaminade ha terminato l'anno con un pareggio nello scontro diretto con il Ruvo, il commento del vice allenatore. Valentino Palombo dunque, vice mister della Chaminade, questa gara insomma come la valuti? Due punti persi o un punto guadagnato? Siamo abituati a non pensare ai punti, siamo abituati a pensare alla prestazione ed è stata una prestazione positiva. I ragazzi hanno messo tanto cuore, tanto agonismo, tanto dinamismo. Certo sono state le solite disattenzioni ma sappiamo quali sono i nostri limiti, dobbiamo solo lavorare per migliorarli. Io ritorno dopo un'esperienza fuori e ritrovo una squadra matura con giocatori che stanno dimostrando quest'anno ancora di meritarsi questa categoria e quindi è bello rincontrarli. Infatti così insomma perché rispetto magari alla passata stagione è cambiata la formula del campionato dove lo scorso anno c'era una sola retrocessione, invece adesso davvero bisogna lottare al massimo gara dopo gara. Sì, è un campionato sicuramente più difficile, il livello anche tecnico è molto superiore rispetto all'anno scorso, almeno questo è quello che mi sembra. I ragazzi si stanno riconfermando, non era facile, non era scontato e quindi il merito va a questa squadra, a questo gruppo, a questa società che sta mettendo tanto impegno. Quindi bene così, speriamo in una seconda parte di stagione con altrettante soddisfazioni. Tantissimo entusiasmo la palestra a surso, soprattutto nel momento in cui eravate sotto di due gol e lì magari si è creata anche una simbiosi con tutto il pubblico. Sì, è l'uomo in più, un tifo che ci segue dappertutto. Tante persone che amano questa maglia, amano la polisportiva, la shaminade, quindi bene così. Un'ultima domanda, adesso si ricaricano un po' le pile, no? Sì, una settimana di pausa, poi riprendiamo più determinati di prima con un breve richiamo di preparazione, pronti per affrontare la seconda parte di stagione che solitamente è sempre più difficile della prima. Biliardino sarà Isernia ad ospitare la prossima tappa del torneo itinerante di calcio Balilla organizzato da Trevisonno, Biliardi e Giochi. A seguire Civitanova del Sannio e Campolieto chiuderanno il 2016 relativamente con l'ultima tappa dell'anno di Biliardino e la seconda di Carambola, Pullo 15. Intanto Isidoro D'Abbate e Giovanni Mainella si sono aggiudicati la tappa di Sant'Elena Sannita. Basket di Serie B, il Globo Isernia ha mollato proprio nei minuti finali ed il Taranto è riuscito a conquistare la vittoria. Gabriele Drigiani avete chiuso con la mare in bocca? Abbiamo chiuso con la mare in bocca sì perché siamo stati in vantaggio tutta la partita e c'è stato un blackout nel quarto quarto, eravamo più 11 o più 15, adesso non ricordo con precisione. Però insomma abbiamo buttato a mare una partita in cui appunto eravamo sopra tutto il tempo e ci siamo fatti recuperare questi 11-15 punti in un minuto, un minuto e mezzo, non lo so. È andata male purtroppo. Ci sono già nuovi piani per l'anno prossimo? Nuovi piani no, nel senso è continuare su questa scea positiva che avevamo intrapreso. Oggi era importante vincere per andare diciamo in vacanza e a riposo con uno spirito diverso per poi ritornare a giocare il 4 gennaio con uno spirito diverso e appunto affrontare la partita con Senigale in un'altra maniera. Purtroppo abbiamo fatto questo piccolo regalo di Natale a loro e quindi questo è quanto. C'è comunque tempo per la salvezza. No, il campionato è ancora lungo, c'è ancora tutto il genone di ritorno. Quindi per il momento sicuramente adesso Taranto ci ha raggiunto a 10 punti. Non solo sport, il Cus Molise da sempre attento anche all'aspetto sociale ripropone l'iniziativa Beneficus, il centro universitario sportivo del Molise ha aperto una raccolta di giocattoli e beni alimentari che saranno consegnati prima di Natale a persone meno fortunate in modo da rendere più serene le loro feste. Un'iniziativa lodevole che ribadisce la volontà del Cus di essere vicino alle esigenze della gente non soltanto dal punto di vista sportivo. Tutti possono contribuire recandosi al palaunimo olimpiale Manzoni a Campobasso. Campionato di promozione per il San Martino, un girone d'andata in salita, il commento del tecnico. Mister Fiorenzo Dainzara, arriva questa sconfitta, la seconda consecutiva, anche se con il tuo avvento qualcosa si è mossa, sono arrivati anche i primi tre punti due settimane fa. Una squadra che ha avuto un buon approccio alla partita, è entrata con la mentalità giusta in mezzo al campo, tra l'altro siete riusciti anche ad aggredire Roiersi, mezz'ora ha fatto la grande, due occasioni, poi è arrivato quel gol che diciamo che vi ha tagliato le gambe. Sì, come dicevo già, come ho già detto in passato, dopo la prima vittoria, c'era già poco prima, adesso stiamo cercando di sistemare un po' le cose, però per quello che poi vedete sia voi dall'esterno che noi dall'interno diventa molto difficile, è sempre più complicato andare avanti se continuiamo a fare sempre gli stessi errori. Sono cose che non dovrebbero accadere, ogni volta si finisce in dieci, adesso magari ci aggiunge anche qualche infortunio importante, mi dispiace per Teo perché sicuramente l'infortunio sarà una cosa che se la porterà dietro per tanto tempo. Poi per il momento sono contento che arriva questa sosta, così comincieremo a lavorare un po' di più sul campo, avremo un po' più di tempo per stare insieme. Sei riuscito a riassestare un po' la squadra, sono venute meno due pedine fondamentali nella linea difensiva e ti sei dovuto praticamente inventare completamente la linea difensiva. Sì, vabbè, in queste condizioni è normale inventare, ho parlato con i ragazzi e ho detto ci vuole una predisposizione a questo gioco, a questo lavoro massimo. Io non posso fra l'altro ringraziare chi è sceso in campo anche oggi. Dispiace per il risultato perché come dicevi tu prima, ai primi tempi comunque li giochiamo sempre noi, poi purtroppo per come vanno le cose anche durante la settimana gli uomini mancano e comunque vengono a scemare anche un po' le energie, però dobbiamo lavorare e dobbiamo cercare di dare il massimo ogni domenica. Quello è il tuo lavoro, quello che la squadra ha messo in campo nella prima mezz'ora, due grosse occasioni da gol, possesso di palla, soprattutto gli avversari che poco hanno marcato la meta a campo, credo che sia quello il timbro di Dain Zara sul Real San Martino. Effettivamente sì, io sono una persona abituata a giocare al calcio, ho sempre giocato a calcio, mi piace che una squadra giochi a calcio, però in queste condizioni ho cercato più di lavorare a livello psicologico sui ragazzi che magari a livello di campo. In queste due o tre settimane di sosta avremo tempo per lavorare meglio sul campo. Sarai il primo a non demoralizzarti da questa situazione? No, assolutamente, io sono stato abituato a grandi battaglie, grandi vittorie, ma anche a grandi sconfitte, quindi non è un problema assolutamente. Prosegue la risalita in classifica del Baranello che ha chiuso il 2016 con tre punti. Antonello Niro è arrivata a una vittoria importante. Sì, vittoria importante, ci sono a finire bene questa prima parte di stagione, un bel risultato 3-1 su uno scontro diretto che ci permette di stare un po' più su della zona play-out. 22 punti raggiunti, direi che se non era per le partite iniziali che sono andate male, probabilmente eravate tra le prime squadre. Sì, è un campionato equilibratissimo perché siamo a 22 punti, ma siamo, se non sbaglio, a tre punti dalla zona play-out e a tre punti dalla zona play-off, quindi è una classifica corta, bisogna andare a lavorare. Adesso inizieremo il 2017 con una Rocca Sicura in casa, quindi abbiamo questa opportunità di sfruttare il fattore interno. Hai detto bene, come inizierete questo 2017, con che mentalità? Speriamo di iniziarlo meglio del precedente, diciamo che a Rocca Sicura abbiamo pareggiato, cercheremo sempre di vincere, poi è sempre il campo a dare il perdetto finale. L'obiettivo rimane sempre quello? Per ora salviamoci dai play-out, però non dobbiamo nasconderci, un occhio lì su lo diamo sempre, se arrivano i play-off beh venga. Per il Castel Mauro un buon pareggio contro il Cerce Maggiore. Giuseppe Troilo, direttore sportivo del Castel Mauro, un Castel Mauro che poteva avere di più e che invece fa sempre i soliti errori. Diciamo fa sempre i soliti pareggi, soprattutto in casa. Oggi forse non abbiamo creduto nella vittoria secondo me, perché un po' ci siamo rilassati nel secondo tempo sul 2-0, poi hanno fatto il primo gol la squadra avversaria, è una cosa normale che poi hanno dato tutto per tutto per pareggiare la partita, con un paio di sbagli che abbiamo fatto noi là in difesa e alla fine hanno pareggiato. Forse abbiamo fatto un buon primo tempo, al secondo tempo forse alla distanza siamo un po' crollati. Infatti è un Castel Mauro che all'inizio dettava il gioco e poi nel secondo tempo si è perso, soprattutto con l'autorete. Sicuramente nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo tempo non abbiamo giocato, ma questo è figlia degli allenamenti. Molte volte facciamo degli allenamenti pochissime persone, non ci siamo tutti e quindi alla fine poi alla distanza, se non ti alleni, alla distanza la paghi. Perché in queste categorie qua, come la promozione, bisogna allenarsi. Quindi invito tutti i ragazzi di venire a fare allenamento durante la settimana, perché il campionato di promozione non lo possiamo fare, perché se ci siamo complicati la vita proprio per la distanza, giustamente loro andavano più veloci e arrivavano molto prima sulla palla e quindi non c'era più gioco per il Castel Mauro. Infatti abbiamo giocato solo il primo tempo. Pausa natalizia, dopodiché il Castel Mauro fuori casa affronterà chi? Andiamo a giocare col Vulcani a fuori casa, un'altra partita difficile, anche perché sono tutte difficili le partite, come questa di oggi, perché non dobbiamo guardare la classifica degli avversari, perché ogni partita ha storia a sé. Non lo so, oggi sono un po' deluso del risultato, anche del gioco. Speriamo che adesso, dopo la pausa natalizia, ci rimettiamo un po' in corsa, un po' con gli allenamenti, un po' con qualche amichevole, sperando che andiamo a fare qualche risultato positivo, dico positivo, a Vulcani e andiamo avanti così. Però oggi sono un po' deluso per la partita della squadra, che io dico sempre, bisogna fare allenamento, se non facciamo allenamento non possiamo andare a nessuna parte. L'Associazione Culturale Ricreativamente di Agnone ha organizzato l'evento Mettiti in gioco. Si parte venerdì e domenica con il Natale dei Bambini, laboratorio creativo a tema natalizio e poi visita guidata al Museo dell'Andoccia con laboratorio artigianale. Gli altri appuntamenti saranno dal 27 al 31, dal 2 al 5 gennaio. Adesso vediamo i risultati maturati in seconda categoria. Undecisima giornata nella gironea della seconda categoria. Castel di Sangro, Montenero 2 a 1. Domenico Desisto, Miranda 1 a 1. Masseria La Corte, Sepinotto a 2. Real Carceres, Macchia Godenese 1 a 2. Sant'Angelo, Sporting La Pietra 0 a 4. Sassinoro alla Fidelis 0 a 5. Ha riposato Giovani Morcone. 24 Castel di Sangro, 23 Sporting La Pietra, 22 alla Fidelis insieme a Masseria della Corte e Montenero. Di seguito tutte le altre. Girone B, questi risultati. Acli Calcio Campobasso, Campoleto 2 a 2. Casali Downi, Morgia, Pietracatella 2 a 1. Celenza, Dax Toro 4 a 2. Fiamma, Folgore, Reds 2 a 1. Polisportiva Fortore, la seconda Baranello 2 a 0. Realmente Cerce Piccola, San Marco 1 a 0. San Giovanni Ingaldo, Real Gambatesa 1 a 1. 28 punti per Realmente Cerce Piccola. Polisportiva Fortore, 25 insieme a Casali Downi, 24 Celenza. Di seguito tutte le altre. Chiudiamo con il raggruppamento C della seconda categoria. Questi risultati. Castro Pignano, Muxu Funi 4 a 0. Matrice, Mondimitar 6 a 1. Montagano, Petrella, Salcito 3 a 3. Orattino, Torella del Sannio 2 a 3. Calena, Accademia Britannica Campobasso 3 a 2. Rocca Vivara, Guardia Alfiera 0 a 2. Tre Colli, Rotello, Fossaltese 2 a 1. 27 matrice insieme a Calena, 22 guardia Alfiera, 18 per Rotello e Mondimitar. Di seguito tutte le altre. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.